buongiorno! guardate che fette! ma che fette? vieni a vedere! ma che fette? ma immaginate! guarda che fette! ma sta fermo! e fa tutte le scalette! ma che stai a dire? ma che stai a dire? ma che stai a dire? ma è possibile che ti dici un cadastro fermo? e non ci vuoi credere! ma come la tagliare? non la tagliare per niente! ma come è buono? guarda come taglio bene! non sei buono! non sei buono! ma perché? sei uno stronzo! no! non si taglia cucina! come si taglia? la fette deve essere tutta pala! piano piano avviene nessuno che fette i pezzetti e fette tutte le scalette! ma io taglio alla spagnola! tu tagli alla stronzo! nonna marì io ho notato una cosa da lì qui! che esce il fumo del devrrrrrr! va via! va via! va via! ma guarda come scappa il fumo del devrrrr! no! anche tu! altro ieri ho detto saturometro! invece è saturimetro! eccolo! adesso lo andavo a misurare a nonno vero? si ma ho le mangelate! e adesso te le scalda federico non ti preoccupare! c'è nipote che ti fa tutto! vieni qua! no! è questa! mettele di qui! mettele di qui! si! mettele di qui! senti! di qui dentro! su! mettele di qui! eh! vada di coglione! ah! vai vai! al top! vai! com'è? vai! 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 se così non basta c'è un'altra soluzione! eh! si! mettele sul culo! ah! 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 ah!